Dal capotreno Stichkin, in uno dei suoi giorni di franchigia, sedeva Lyubov Grigorievna, posata, fine signora sulla quarantina, che si occupava di matrimoni e di molti altri affari, dei quali è uso parlare solo a bassa voce. Stichkin, un po' turbato ma serio, positivo e austero, camminava per la stanza fumando un sigaro e diceva «Lietissimo di far conoscenza, Semyon Ivanovic vi ha raccomandata, sotto questo aspetto, che voi potete aiutarmi in una faccenda delicata, importantissima, riguardante la felicità della mia vita. Io, Lyubov Grigorievna, ho ormai 52 anni, cioè un'età in cui moltissimi hanno già figli grandi, ho un impiego solido, se bene non abbia un gran patrimonio, posso mantenere presso di me la creatura amata e i figli. Vi dirò fra di noi, che oltre allo stipendio, ho altresi denari in banca, che ho risparmiato in conseguenza del mio tenor di vita. Sono un uomo io, positivo e sobrio, ma non una vita giudiziosa e conforme, perché posso pormi ad esempio a molti. Ma una sola cosa mi manca, un mio proprio focolare domestico, la compagna della vita, e conduco la mia esistenza come un qualsiasi ungherese nomade, da luogo a luogo, senza soddisfazione alcuna e senza nessuna con cui consigliarmi. E ammalandomi, non ho timidia nemmeno un po' d'acqua, eccetera. Inoltre, Lyubov Grigorievna, l'ammogliato ha sempre più peso nella società che uno scapolo. Io sono un uomo della classe istruita, con denari, ma a guardarmi da un certo punto di vista, chi sono io? Un senza famiglia, tal quale come un qualsiasi prete cattolico. E perciò desidererai moltissimo unirmi coi vincoli di Gumeneo, cioè contrarre legittimo matrimonio con qualche degna persona. È una buona cosa, sospirò la mediatrice. Sono un uomo solitario io, e in questa città non conosco nessuno. Dove andrò? A chi mi rivolgerò, se per me tutti sono sconosciuti? Ecco perché Semyon Ivanovic mi consigliò di rivolgermi a una persona che è specialista in questo ramo, e nel trattare la felicità della gente c'ha la sua professione. E perciò vivissimamente pregandovi, Lyubov Grigorievna, di dare con la vostra assistenza assetto al mio destino. Voi, in città, conoscete tutte le ragazze da marito, e vi è facile sistemarmi. Questo si può? Bevete, prego, umidissimamente. Con gesto abituale, la mediatrice portò il bicchierino alla bocca e lo vuotò, senza fare una smorfia. Questo si può? Ripete. E quale ragazza, Nicolae Nicolaic, vi garberebbe? A me? Quello che il destino manderà. È questa, certo, cosa del destino. Ma ognuno ha pure i suoi gusti. Uno ama le brune, un altro le bionde. Vedete, Lyubov Grigorievna, disse Stritchkin sospirando con gravità. Io sono un uomo positivo e di carattere. Per me, la bellezza in generale, l'apparenza, è una parte secondaria. Perché, lo sapete voi stessa, la bellezza non si beve. E da una moglie bella si hanno moltissimi fastidi. Io suppongo che in una donna l'importante non sia il di fuori, ma quel che si trova di dentro. Cioè, che abbia un'anima e tutte le qualità. Bevete, vi prego, umidissimamente. È certo quanto mai piacevole se la moglie sarà pienotta della persona. Ma questo, per la reciproca fortuna, non è cosa essenziale. L'importante è l'intelligenza. Propriamente parlando? Propriamente parlando. Nella donna non ci vuole neppure l'intelligenza. Poiché a causa dell'intelligenza, ella avrà un gran concetto di sé. E vagheggerà svariati ideali. Senza istruzione, oggi di non si può, questo è certo. Ma vi è istruzione e istruzione. Fa piacere se la moglie parla francese e tedesco e canta diverse arie. Fa molto piacere. Ma che costrutto se ne ha se non sa attaccarti? Mettiamo un bottone. Io sono della classe istruita. Col principe Canitalin, posso dire, sono tal quale come ora con voi. Ma ha un carattere semplice. A me occorre una ragazza piuttosto semplice. Il più importante di tutto, poi, è che lei mi rispetti. E senta che io l'ho resa felice. E cosa nota? Beh, ora. Circa il sostantivo. Ricca non mi occorre. Io non mi permetterò la bassezza di sposare il denaro. Desidero che non sia io a mangiare il pane della moglie, ma lei il mio. E che lo senta. Ma non mi occorre nemmeno una povera. Anche se sono un uomo agiato. Anche se mi sposo non per interesse, ma per amore. Non posso però prendere una povera. Perché lo sapete voi stessa. Ora tutto è rincarato. E ci saranno dei figli. Ma si può trovare anche condote, disse la mediatrice. Bevete, prego, umilissimamente. Tacquero per cinque minuti. La mediatrice sospirò. Guardò in tralice il capotreno e domandò. Beh, e così, Batiusca. Come scapolo. Non ti ci vuol nulla. C'è della buona merce? Una francese. E ve ne sarà un'altra greca. Di molto valore. Il capotreno pensò un poco. E disse. No, vi ringrazio. Vedendo da parte vostra così buona disposizione. Permettete ora di domandare. Quanto prenderete per le vostre premure circa la fidanzata? Non mi occorre molto. Darete un biglietto da venticinque e la stoffa per un vestito. Come usa. E grazie. E per la dote separatamente. Questo è un altro conto. Stritchkin incrociò le braccia sul petto e si mise a pensare in silenzio. Dopo aver pensato sospirò e disse. È caro? Non è punto caro, Nicolai, Nicolai. Prima, quando nozze ce n'erano molte, si soleva prendere anche meno. Ma al tempo d'oggi, quali sono i nostri guadagni? Se in un mese grasso buscherai due biglietti da venticinque, si è ringraziato il Dio. E allora, Batiuska, non è sulle nozze che ci arricchiamo. Stritchkin guardò dubbioso la mediatrice e alzò le spalle. «Mh, forse che due biglietti da venticinque sono poca cosa?» domandò. E certo, sono poca cosa. Nei tempi andati accadeva che più di cento ne guadagnassimo. «Mh, io non mi aspettavo punto che con simili affari si potesse guadagnare una tal somma. Cinquanta rubli? Non ogni uomo riceve tanto. Bevete, prego, umidissimamente!» La mediatrice beve e non fece una sborfia. Stritchkin la sbirciò da capopiedi e disse «Cinquanta rubli. Sono dunque seicento rubli all'anno. Bevete, prego, umidissimamente!» «Con simili dividendi, sapete, Iubov Griegorjevna, non vi sarà difficile trovare a voi stessa un buon partito!» «A me?» risse la mediatrice. «Io sono vecchia. Niente affatto. E ci avete anche una tal complessione. E un viso pianotto, bianco. E tutto il resto!» La mediatrice restò confusa. Stritchkin pure si confusa. E sedette accanto a lei. «Voi potete ancora piacere moltissimo», disse. «Se vi capiterà un marito positivo, serio, economo, col suo stipendio e col vostro guadagno, potrete perfino piacervi assai. E vivrete a cuore a cuore? Io sa ciò che andate dicendo. Nicolai Nicolaits!» «Che cosa?» «Io nulla!» Seguì un silenzio. Stritchkin cominciò a soffiarsi il naso rumorosamente. E la mediatrice si fece tutta rossa. E guardandolo vergognosa domandò. «E voi? Quanto ricevete, Nicolai Nicolaits?» «Io?» «Settantacinque rubli, gratificazioni a parte. Inoltre abbiamo il reddito delle steariche e delle lepri. Vi occupate di caccia?» «No, lepri da noi vengono chiamati viaggiatori senza biglietto.» Trascorse ancora un minuto in silenzio. Stritchkin s'alzò e in agitazione prese a camminare per la stanza. «A me non occorre una consorta giovane», disse. «Io sono un uomo maturo e mi ci vuole una che sia... d'un genere come sarebbe il vostro, seria e posata, ed una complessione del vostro genere.» «Saddio, so che state dicendo!» ridacchiò la mediatrice coprendosi col fazzoletto e il viso porporino. «Che c'è qui da pensare a lungo? Voi mi andate a genio e mi convenite con le vostre qualità. Io sono un uomo positivo, sobrio. E se vi piaccio, allora... Che c'è di meglio? Permettete di farvi la proposta.» La mediatrice versò qualche lacrima. Rise, in segno di consenso, toccò il bicchiere con Stritchkin. «Beh», disse il felice capotreno, «ora permettete di spiegarvi quale condotta è modo di vivere io desidero da voi. Io sono un uomo austero, posato, positivo. Intendo tutto nobilmente. E desidero che mia moglie sia del pari austera e capisca che per lei io sono un benefattore e il primo degli uomini.» Egli sedette e dato un profondo sospiro prese ad esporre alla promessa sposa le sue vedute sulla vita di famiglia e sui doveri della moglie. Grazie a tutti. Grazie.